Conclusa la pausa estiva, torna l'attività istituzionale a Palazzo del Carmine. Il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Magri, ha infatti convocato le prossime tre sedute del civico consesso per il 13, il 20 e il 27 settembre, tutte alle 18 e 30. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno, a cominciare dall'approvazione dei verbali delle precedenti sedute dello stesso Consiglio Comunale. Si passa poi ai conti del Comune, visto che in calendario c'è il riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di una recente sentenza civile della Corte d'Appello di Caltanissetta. In calendario anche l'approvazione della revisione del Piano Comunale di Protezione Civile. Da discutere anche la mozione sulla proposta di istituzione dell'interprete della lingua dei segni per garantire anche ai sordomuti di seguire le sedute consigliari, argomento quest'ultimo di cui si era già parlato nei mesi scorsi. Altro argomento in agenda, la proposta di intitolare l'aula universitaria del Consorzio Universitario a Giulio Reggeni. Lo studente italiano rapito al Cairo, capitale egiziana, nel 2016 è ritrovato morto nei pressi di una prigione dei servizi segreti egiziani con segni di tortura sul corpo.